Sì, abbiamo fatto una buona partita, siamo venuti qua con un atteggiamento giusto contro una squadra forte che lotta per vincere, quindi visto che veniamo da un periodo difficile non è scontato, invece abbiamo giocato con coraggio e fiducia ed è un atteggiamento che al di là del punto ci porterà di buon auspicio per il futuro. Mi interessava un focus sul piano personale, di nuovo alla prima datolare di verso tempo, che cosa è accaduto, aiutaci a ricostruire questo percorso un po' complicato? Io penso che sono le scelte del mister, quindi poi abbiamo tanti giocatori, il mio atteggiamento non cambia, diciamo che io rimango sempre me stesso, ho imparato a fare così, quindi il mio atteggiamento di allenarmi al massimo è quello, poi se vengo chiamato in causa cerco di fare il massimo. Ovviamente spero di essere utilizzato il più possibile, perché comunque mi ritengo un leader di questa squadra, però poi vanno anche rispettate le scelte. Come l'avevate preparata invece in settimana la partita? Vi aspettavate anche questo atteggiamento da partire da Lundino, che magari vi sia avuto un approccio diverso fino all'inizio della gara, invece qui forse siete stati bravi anche a mettere in grande corte? Non so come l'avevate preparata in settimana. Io penso che il primo tempo siamo stati bravi ad alzare molto i ritmi, a buttarla molto sul ritmo alto, uomo su uomo, insomma il nostro identikit è quello, però diciamo ci è riuscito abbastanza bene e abbiamo avuto anche qualche chance. Anche il secondo tempo siamo partiti bene, poi è ovvio che gli ultimi minuti invece contro una squadra così ti viene un po' da coprirti, soprattutto dopo il periodo che abbiamo passato. Però l'abbiamo preparata così, ritmi alti, insomma andare a prenderli e non metterci lì dietro perché non avrebbe avuto senso.